Oh, ciao! Credevo che a questo punto tu e Spike aveste già dei tatuaggi gemelli. Fico questo posto, eh? Ah, sto morendo di fame. Dove è finita la mia pizza? Un buco allo stomaco. Oh, mio salvatore. È solo di un paio d'ore fa. C'è della gente che devi conoscere. Si fanno chiamare Risky Devil e corrono con auto tenute insieme da nastri, graffette, tutto pur di tornare in strada. Lo vedi questo? E mi avrebbe un collasso per un cerchione così. Di sicuro. Per loro, invece, le cicatrici sono trofei di guerra. Ehi, Rob, ho bisogno di te per superare il livello. Oh, vuoi che ti tenga per mano? È matto. Allora, io resto qui. Devi attirare la loro attenzione, ok? Noi ci sentiamo dopo. Parte il treno delle derapate. Ciao. Ciao.